Si chiede il mio nome, non vuoi stare a lui? Chi cazzo è il nome? E me, deve meraviglia, lascia il nome di lui, e lascia il tuo giudice, lascia il tuo giudice, ci amare lui da ho scelto la parola dell'ossia, d'amore, Grazie a tutti. 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 non 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non si acconti ne pulti e si ba o a monelle lui è finissà voi non c'è lui lui è finissà voi c'è lui non 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 c'è lui c'è lui non c'è lui il quello non c'è lui non c'è lui nonosta quindi inf ingred第三 si Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Vieni bene? Vieni bene? Beh, tu non fosti un caldo su me figo che? Non passate da là, noi figo che che tu avessi un problema. Es quelli che sono andati. Me figo che che è, tu avessi un problema. Quali problemi me figo che è? Me figo che è un uomo. Me figo che è un uomo. Me figo che è un uomo. Io non avevo maledicione. Io non avevo maledicione. Io non avevo maledicione. Io non avevo maledicione. Me figo che è un uomo. E io ho gioco che ci vuole è un uomo. E io ho gioco che vuole c'uomo che vuole di cosa haute osta. E io non avevo delle cose haute osta. Se vogu che vuole la lonti. E sti non avevo. Non, 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 non. Siamo, quando dia diceva, se diceva, se diceva, Non, 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 non. che cosa otezza tutti i ragazzi noi non è che sei noi ma maledizione raciale che a mangiare ma maledizione familiare è il primo progetto 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 la maledizione la maledizione la maledizione conness i su kisi nel primo progetto perdi le pied e mi contone mangiare ma ma non non si no ma che non Chiesilà. Non 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 Chiesilà Non Non C'è la chiesità? C'è la chiesità? Non Ah Giù di quelle chi chiesità? Si chiesità di chiolie? Quiui di quiesità di chiossible per siderare? I chiudì che choisi per mantenere il quai questo? Per chi non vi può ne niye né da alleged! Personne No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. che ci sono i miei amici un pochetto in cui ci sono i miei amici ma qui il canale lo deba e noi c'è lui lo deba è la quagione anniera che inizia la parola di Dio explica in un lo deba di un primo tempo è il primo è il primo che è un uomo che dice che è l'unico 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 non l'avore, l'avore di a teo ma tutta la ragione la più ampia negativa c'è l'ordine 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 è l'ordine c'è l'ordine è l'ordine qui va avere un problema non, perché quando esprite l'ordine l'ordine dice par est-ce che l'ordine par non l'ordine 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 ma per le cose non lo che te lo le va insieme non è stato un po' non lo vio par le vio non lo vio par le parole non lo vio par le cose non lo vio non lo vio stasso non lo vio non lo vio par le vio par le vio si lo vio par le vio vio qui lo vio non lo vio non lo vio est ce que l'église est là à faire et ce mot qui est tellement compliquée c'est seulement trois fois la bible répétait moi avec nous c'est le débat et puis lorsque vous comprenez que nous avons trois petits est ce que nous avons l'ami qui v'le dit pas mon père et l'ouichama qui v'le dit pas de pitié est ce que l'église est là à faire donc c'est une constance que l'église est passée pour rentrer dans la voie il y a un homme vous allez chercher pour jouer nous que nous avons envie j'ai dit 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 je m'en prie je m'en prie j'ai dit ma tutti che voi italiane è un obsta e noi vedi che nel passaneo obsta qui o qui mi cè siede l'impiazione da campi in questo posto quando hai grossi anni? hello ma tutti voi vedi che ma parlare è un po' di me perché troppo tutto ciò che fa noi viviamo con la mia gente no i i i i i Sì C'est triste, c'est parce que souvent, on posa l'eau passando l'eau. C'est triste, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Le roi dit, n'y a-t-il personne dans la maison de Sahel pour qu'il gisse envers lui de la beauté de Dieu ? C'est triste, c'est triste. C'est triste, c'est triste. C'est triste, c'est triste. C'est triste, c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.